Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Sono in vigore da questa mattina le nuove modifiche alla viabilità nell'area di piazza Venezia per migliorare la circolazione nei pressi del cantiere della metro C. In particolare per ridurre l'attesa ai semafori è in vigore l'obbligo di svolta a destra verso via del plebiscito per chi proviene da via del corso. Inoltre per quel che riguarda il trasporto pubblico è stata ripristinata la fermata bus su via Cesare Battisti mentre è stata soppressa quella su via del plebiscito. Intensificata infine la presenza degli agenti della polizia locale in tutta l'area. La circolazione nella piazza, lo ricordiamo, è consentita a doppio senso soltanto sul lato del Palazzo delle Generali. È chiuso invece il tratto dalla parte di Palazzo Venezia.